L'Europa così com'è a noi non piace, ma non ci piace neanche come il governo italiano sta cercando di tutelare gli interessi del nostro paese, vale a dire non sta facendo nulla per tutelare gli interessi del nostro paese. Vicenda banche, vicenda ILVA, piano aeroporti, ritardo dei pagamenti, leggi di stabilità, tutto trattato con superficialità, tutto trattato senza essere presenti costantemente a Bruxelles, alla fine il conto lo pagano gli italiani. Vediamo tutta questa incertezza anche sulla politica bancaria, la bad bank, le riforme, hanno comunque in qualche modo agevolato le speculazioni negative che ci sono state anche ieri. Questa incertezza nella politica bancaria non aiuta un sistema bancario italiano che nella gran parte è sano. Ci sono delle mele marce, lo abbiamo visto, ma c'è un sistema comunque che lavora bene. Io penso alle tante banche popolari, alle tante banche di credito cooperativo che aiutano le piccole e medie imprese che favoriscono l'accesso al credito per le famiglie. Ma come vengono tutelate? Male da una politica anche fatta a Bruxelles senza capire cosa succede realmente qui. che significa...